si sale? strana? che problema abbiamo? dove fai Mauro? ma perchè è caduto? che cosa succede? bravo Gio sta notto non mi dice niente a me chi è quello che è partito per prima? ebbè certo dico lui che va a cercasse la mia sede merda eh cristo chi è che l'ha cercato? l'abbiamo giustamente Federico va quanto culo va tra i tre non siamo su disney channel secondo me che da disney channel che tra i tre non è non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.